ecco la nonna di Chiara Ferragni, ciao nipote vitto mangia bene vittoria ok ci siamo appena visti la vitto che fa il disastro con quel panino lei ama mangiare però davvero è senza freni adesso ci becchiamo invece Chiara Ferragni che fa il suo fit check con questo pigiamino di Chiara Ferragni brand che è carino niente di che io preferisco le cose con gli occhi, le cose rose con gli occhi qua invece Chiara Ferragni ha portato tutto lo staff della TBS crew alla triennale di Milano bravissima perché io per esempio non ci sono mai andata mi sarebbe piaciuto e qua invece il brufolo di Chiara Ferragni che cresce a dismisura lei e il suo caffè, la iaia e Chiara Ferragni invece con questa maglietta degli Emirates arabi invece queste sono riprese di Marina di Guardo sono sempre superi colli di baresotti si può dire così e senza offendere i lombardi e poi finiscono la serata a Ristorante, ciao!